che aleggiava in quel luogo. Eravamo a Poggio Martino, una località montana a pochi chilometri dalla città. La mia compagna raccoglieva semi di fiori per il giardino di casa, nel punto in cui un ruscello scendeva dalla collina e si gettava nella valle da uno strapiombo. Ad un tratto entrambi sperimentammo una sensazione di profonda tristezza. La giornata era tranquilla e piena di luce, ma fummo aggrediti da una sensazione di grave disagio, che ricordo come un odore pestilenziale. Avvertivamo una depressione profonda, che aleggiava in quel luogo con tale intensità da farci star male. La mia compagna sentì una forza urgente, che la invitava a gettarsi nello strapiombo. Dopo, sapemmo che in quel luogo, dal Medioevo in poi, erano avvenuti numerosi suicidi. Commento I luoghi in cui molte persone hanno vissuto forti depressioni, rimangono magnetizzati da loro sentimenti negativi. È una forma di apprendimento spirituale, che i luoghi testimoniano da chi li ha frequentati. I sentimenti positivi, in genere, non ce la fanno ad imprimersi nei luoghi perché le loro vibrazioni sono meno intense dei sentimenti negativi. Grazie. Grazie a tutti.